sul momento non lo so ho una zucca non ce la posso fare vai del sangue in faccia no ragazzi peekaboo se avete visto il video di oggi avete visto come ho ricreato questo make up che sembra sangue ma tiktok peekaboo non è tranquillo tiktok non è sangue vero è sangue finto ricordiamolo non è vero cioè è make up è un ombretto rosso sei tranquillo ok comunque no state tranquilli cosa mangio oggi oggi vado di pollo avanzato col cuore vado col pollo avanzato che è insalata e ancora l'avocado che devo finire oggi lo devo finire perché ragazzi ho una patata ho una patata col cuore queste cose le dico col cuore sicuro qualcuno che entra adesso in live dirà ma questa è matta è mattissima ragazzi non vedo che state non state mettendo mi piace dovete fare tap 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 peekaboo sullo schermo tante tante volte così arriviamo a un milione e vi porto sky col cuore sempre col cuore queste cose mi fanno troppo ridere e condividere e condividere così arriviamo subito 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 e aggiornatemi su quanti mi piace state mettendo il calendario di Sephora si lo ve lo faccio vedere oggi nelle storie di instagram appena finisco di pranzare lo vado ad aprire perché mi è arrivato e ve lo faccio vedere una zucca mamma mia la zucca col cuore sempre col cuore io queste cose ve le dico sempre col cuore peekaboo peekaboo che ciglia finte usi utilizzo quelle di Primark queste le ho prese da Primark non mi ricordo totalmente quali sono le ho tipo pagate tra i 5 euro sono quelle proprio lunghe 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 e mi piacciono un sacco però le ho prese da Primark peekaboo non ce la posso fare no veramente sembro ma sky sky centro milione se non ci arriviamo sky non arriva arriva il frigo l'ho fatto già vedere l'ho fatto già vedere tutto trovate i video sul canale se ve lo siete persi già l'ho fatto vedere perché peekaboo peekaboo perché alcuni si perdono i video io non capisco perché peekaboo non mi ricordo se Marti peekaboo alcuni si perdono i video sul mio canale escono peekaboo però non si vede io non so non riesco a capire perché però è uscito anche quello di oggi ho una zucca col cuore col cuore lo giuro mi sta vendendo molto di pancia non riesco a fare le cose serie cosa mangi sempre il pollo cos'è successo al viso guarda il video di oggi peekaboo così non puoi capire facciamo un tiktok peekaboo facciamo un tiktok peekaboo non sicuro la gente mi sta dicendo boh ma questa è matta spiego per chi magari è entrato in questo momento ho una zucca ho una zucca ogni volta che c'è un emoji tipo la rosa devo dire peekaboo quando esce il cuore devo dire col cuore e quando esce la zucca ho una zucca poi le altre cose tipo tiktok l'avete visto il video qualcuno ecco così capisco chi ha visto il video di oggi questo qui che ho ricreato mi scriva io così leggo quanti col cuore ho la zucca ho la zucca così capisco col cuore sempre col cuore ok 14 14 42 peekaboo 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 56 56 peekaboo 57 peekaboo 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 non cominciate peekaboo no poi devo dire 100 peekaboo col cuore sempre col cuore col cuore sempre 72 persone peekaboo peekaboo mettete a raffica le rose vi odio cioè vi voglio tanto bene ma vi odio 43 persone ok quindi qualcuno l'ha visto il video 64 persone perfetto riuscirò a mangiare no il pulcino pio e il pulcino pio e il pulcino peekaboo cos'è il primo regalo peekaboo ok va bene top ragazzi col cuore peekaboo col cuore sempre però ce lo posso fare col cuore sempre peekaboo il frigo l'ho già fatto vedere è già uscito il video ieri peekaboo col cuore sempre col cuore col cuore no peekaboo perché è uscito il cuore oddio sto uscendo pazza peekaboo 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 pazza pazza io già mi rivedo una zucca una zucca io già mi rivedo in qualche pagina che mi prenderanno in giro perché dico queste cose pazza perché fai così perché perché non lo so è una cosa che ieri Manuel mi ha detto peekaboo che anche altre persone stanno tipo facendo le frasi preimpostate quando inviano un emoji e quindi ho detto vabbè proviamo a farlo anche noi oggi ho una zucca peekaboo e ci voglio provare non lo so sono pazza ho una zucca peekaboo peekaboo vorrei parlare anche quanto siamo 228 ho una zucca peekaboo siamo a 229 mila a un milione arriva sky è qua che ho una zucca ho una zucca e andiamo a fare tiktok andiamo a fare qualche tiktok no non so cosa dire sul tiktok magari inventate vivo le frasi cosa è successo alla faccia basta è il video di oggi peekaboo è il video che è uscito oggi primo regalo peekaboo io pazza io pazzissima andiamo a fare un tiktok peekaboo no ragazzi ve lo giuro non riesco a parlare a mangiare come faccio ho una zucca ma si è il video di oggi peekaboo la mini lavatrice la proviamo domani è il pulgino bio è il pulgino bio no non ce la posso fare non ce la posso fare arriva i capelli rosa o quella a te fantastica fantastica vuoi dire tiktok andiamo a fare il tiktok ci sta ma stanno ancora litigando gli elic non ho capito col cuore sempre col cuore però non ho capito cosa gli elic insegna a scagliare caffèuccio 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 solo per voi solo per oggi chiami Manuel se volete no non lo so se oggi Manuel c'è in realtà cosa hai fatto in faccia sempre col cuore sempre col cuore sempre il tiktok di oggi non è successo niente se ve lo siete persi tranquilli sto benissimo siamo un po' chati condividiamo no siamo proprio la zucca la zucca col cuore peekaboo col cuore vedi sono un sacco di emoji ecco l'ho già detto l'ho già detto peekaboo 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 no peekaboo 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 no eh 777 guarda peekaboo veramente non cominciate ho le scarpe rosia no I'm a Barbie girl in a Barbie ecco questa magari per le scarpe rosia ci stanno quelle dovete lo faccio insieme a voi aspettate col cuore peekaboo 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 Ale ti voglio tanto bene peekaboo peekaboo ma l'ho detto già troppe volte ho una zucca sto mettendo i mi piace vediamo quanti ne metto mi fa malissimo peekaboo peekaboo 777 ti voglio tanto bene peekaboo 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 ok io ne ho messi 135 peekaboo 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 ce la posso fare non ce la posso fare una matta una matta si devo fare peekaboo peekaboo uscire il video del vampiro peekaboo 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 sono detti 10 peekaboo non lo so mettiamone uno in più tanto lo faccio uscire oggi quel video peekaboo 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 Faccio uscire oggi il video delle labbra vampiro Non vi preoccupate Lo stai sulla fronte Sempre il video di oggi Ma perché siete spaventati E ombretto state tranquilli Non è successo niente Non mi è esploso niente in faccia Ti ho messo 166 like Caffeuccio Caffeuccio No è acqua però Caffeuccio Riffai metà cuore Sempre col cuore Sempre 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 Che fai per halloween allora In realtà io devo fare In realtà non lo so proprio ad halloween Però lunedì ho un evento tema halloween Sempre col cuore E quindi mi devo travestire Adesso sto pensando a che travestimento fare Ti ho messo 399 mi piace Non so come passate Il video della lavatrice esce domani invece Fai vedere le unghie Eccoli qua In realtà Forse venerdì le vado a rifare Forse Non lo so Vedo come sto messa con i tempi Oddio cos'è in fronte Devo mettere tipo Non vi preoccupate Guardate il video di oggi Non è successo niente Quello Dai siamo Peekaboo Oddio 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 Non so se No sapete che l'avocado c'ha un gusto strano No L'avocado ma mi sa che è andato a male No aveva un gusto strano Mille mi piace Ma come fate a mettere mille mi piace Non ci riesco manco io Pina Pina sta bene Dovrei ricominciare L'avocado si mangia non si beve Cosa vuol dire l'avocado Perché ho detto Ho detto bere per sbaglio No stavo mangiando l'avocado ma ha un gusto strano Oh mamma Ok Ciglia finte dove? Primark Questa l'ho presa da Primark Però ve lo giuro non mi ricordo qual è il nome Cioè erano se non sbaglio Nella scatolina E venivano tipo 5 euro O tra i 3 5 euro Ma forse No ma forse ve l'avevo fatta vedere Nel sì Peekaboo Col cuore E le trovate nel video Dove ho fatto vedere Che avevo svaliggiato Primark Le avevo fatte vedere Una di quelle due Quindi le trovate lì Adesso mi sono ricordata Così sulla fronte Sempre il video di oggi tranquilli Peekaboo Col cuore Sempre col cuore Peekaboo Cos'è vicino? Vi prego ragazzi Scrivetelo voi Che non mi va di ripeterlo ogni volta Guardate il video di oggi Per quello Non è successo niente 500.000 Eh no Siamo a 500.000 Però A un milione Quindi dovete ancora continuare a mettere Tap 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 Quindi mi piace E a condividere Sono stanca Sono stanca Ho detto troppi Peekaboo Fai tutorial dell'eyeliner Ve l'avevo già fatto in passato Però se volete Ditemi voi se ne rivolete un altro Così vi faccio vedere un po' come lo faccio Cioè in realtà Molto semplice Col cuore Sempre col cuore Il cuore Basta Cos'hai pronte Basta Sky ha un milione di mi piace Queste sono le unghie Sono così tutto il tempo Così vedete le unghie Ma in realtà è uscito un video Già qualche giorno fa Però nessuno l'ha visto Mannaggia Non li vede Peekaboo Non li vede più nessuno i video Mannaggia Mi fa male il pollice Eh ma immagino 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 proprio Ah 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 Bronzatissima Uh No non credo ci sia Manuel Andate al video di oggi Grazie Non ho visto chi l'ha scritto Ma Grazie Così L'aggetto non si spaventa Eccoci qua Vogliamo Sky Ho capito Quale Colla per le ciglia Fintamusi Utilizzo No non so parlare oggi Peekaboo Utilizzo quella di La colla duo Ma l'ho già fatto vedere Anche nel video di Primark Ho preso tutto lì La colla duo L'ho trovata da Primark O comunque In altri posti Oh Una zucca Una zucca Eh Eccoci qua Eeeh Basta Non rispondo più A quella domanda Avocado gab Eh no Sì L'avocado è un po' Appassi No Mi sa che lo devo buttare Perché No Lucidalabbra Al momento mi sa che è andato via Ma è uno di Shiglam È un olio labbra di Shiglam Che adesso è andato via Hai le ciglia finte diverse In che senso No Sono uguali Col cuore Sempre col cuore No sono uguali in realtà O nel senso che Sono ciglia finte che uso diverse Non ho capito Vabbè Anyway Eeeh Come sto oggi Sto Così così Diciamo che ieri non sono stata Benissimo Eeeh Oggi sto cercando un po' Di distrarmi E poi oggi pomeriggio Non ci sarò per tutto il giorno Eeeh Perché mi voglio dedicare un po' più Alla mia famiglia Poi domani Domani parto per Milano Col cuore Sempre col cuore Dove è la maglia? Mi sa Maglia l'ho presa Dove l'ho presa la maglia? Aspettate eh Oddio non riesco a vedere Penso Se non sbaglio Tallywail Io non ho mai capito Se dice Tallywail o Tallywail Vabbè Se siamo capiti Però l'ho presa tipo 4-5 anni fa Ma veramente Tantissimo tempo fa Molto bella La utilizzo sempre Poi rimane un po' più Corta Qua ho i pantaloni del pigiama Ovviamente California E dai Col cuore Sempre col cuore Devo studiare Ehm Immagino Quanta gente oggi deve studiare? Mi dica io Così vediamo quanti Purtroppo oggi Peekaboo Devono Studiare Vediamo se 48 61 65 Tik Toki Col cuore Andiamo a fare un Tik Toki col cuore Eh Un po' di persone Credo Penso tante persone Molto bello 100 persone Eccoci qua Io sto studiando Guardando la mia live T'ho beccata Prof Cosa ho studiato? Eh niente Col cuore Prof col cuore Prof Sempre col cuore Sì Ebbè Un po' di Facciamo vedere a noi L'etichetta Peekaboo C'è scritto Sì E' talli Sì sì E' talli Sì 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 Talli E mi ricordavo Sky Siamo Qua Siamo 800.000 Ancora 200.000 Mi piace E prendiamo pure Sky Io sto facendo analisi grammaticale Ma Che ricordi La mia materia preferita Peekaboo Col cuore E l'inglese Molto bene Peekaboo Sì Per chi Peekaboo Fosse entrato adesso in live Col cuore Sempre col cuore Devo dire Peekaboo Ogni volta che Peekaboo Qualcuno mi regala una rosa Col cuore Peekaboo Appena qualcuno mi regala un cuore Eccetera 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 Non sono pazza Peekaboo Canzone preferita Nel momento Peekaboo Qual è la Questa qua di Come si intitola Aspettate Sky Basta Far casino Stai urlando Lo so E ancora Non è Peekaboo Non è arrivato il momento di uscire Col cuore Questo però è un altro cuore Però sempre col cuore Questa qua di Substitution Sì Si pronuncia così Substitution di Purple Disco Machine Cancer Cosa ne pensi di Iepoda Col cuore Sempre col cuore Io utilizzo i prodotti di Iepoda E vi devo dire che mi trovo Stra bene Non ho mai avuto problemi Quindi Io posso dirvi la mia Personale esperienza Top Cosa in faccia Come in fondo Sempre col cuore Col cuore E il video di oggi Peekaboo Non vi preoccupate E il video di oggi Se non l'avete ancora visto Andatelo a vedere così Capite Capite subito Il perché di queste Cosine in faccia Correttore Correttore Allora Correttore Quello che ho utilizzato È sempre quello di Astra Peekaboo Quello di Astra Che fa anche da Fogotinta Ci fai vedere tua madre Ma perché A parte che Abito da sola a casa A parte che Trasciando che i miei Non Si tirano proprio Fuori dai social E io li tengo fuori dai social Oh una patata Una patata Col cuore Sempre col cuore Lo trovo bellissimo Questo trucco È carino Ed è anche semplice Secondo me Da ricreare Quindi se Per Halloween Col cuore Sempre col cuore Avete Cioè non sapete Che make up Realizzare Secondo me Questo comunque È super semplice Oh una zucca Col cuore Sempre col cuore Peekaboo E Sì Non ci vuole niente Poi basta che Truccate un po' l'occhio E siete a posto Poi oggi vi faccio vedere Invece come fare Le labbra da vampiro Quello Anche quello È molto semplice Da fare Quindi per Completare Diciamo Tutto il make up Perché non ci fai vedere I tuoi genitori Ma perché li devo far vedere Col cuore Ve lo dico proprio col cuore Perché li devo far vedere Non Loro non vogliono essere Messi in mezzo Sul lato social E quindi io rispetto La loro scelta Cioè E poi Non c'è motivo Di farli vedere Cioè È questione anche di privacy Insomma Perché sei rossa E basta Peekaboo Basta Non ce la faccio più Basta Perché è uscito il video Di oggi Ora Metto un cartello qua Ragazze È uscito il video di oggi Per quello Sono così Andatelo a vedere Dai siamo quasi a un milione Dai 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 Vi do una mano Vi do una mano Con il mi piace Dovete fare Dovete fare tap 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 Sullo schermo Dai 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 Così ci arriviamo subito E andiamo a fare i tiktok E andiamo a fare i tiktok E condividete così Arriviamo subito subito Col cuore Ve lo dico proprio col cuore Ari ho fatto il compleanno Adesso ti faccio fare gli auguri da Sky Adesso ce la canta un po' La canzoncina Lorena ha la febbre Ciao Lorena Ti mando un bacio Ho tolto Per sbaglio ho tolto Ne ho messi 140 Siamo un milione Non me ne sono neanche accorta Una zucca Una zucca Non inviate niente Perché adesso mi devo allontanare Arriviamo Vieni 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 Amorini Ciao Cosa c'è amore Cosa c'è amore Ciao Ciao amore Salute tutti Ciao Ciao amore Ciao amore Ciao amore Ciao Ti metto qua Eccoci qua Eccoci qua Come stai Sky Come stai oggi Ciao amore Come stai Come stai Stai bene Sì Mi dici di sì Come stai No mi mangia la sedia Come stai Eh Ce lo vuoi dire Cosa Cosa dici Grazie Ogni volta che mi dai bacetti Mi dice grazie Vero Mi dai bacetto Bacetto Gra Eh no Però lo devi dire bene Grazie Sennò se dici solo gra Non si capisce Dammi bacetto Bacetto Dammi bacetto Dai Non fare il timidino Dammi bacetto Gra 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 Non capisco perché dice solo gra 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 Grazie Gli dire grazie Bacetto Gra Gra Col cuore Col cuore Sempre col cuore Non so perché non lo dica Grazie Gra Vabbè Oggi va col gra Ha sempre detto grazie Grazie No Fai ciao con la zampina Ciao Ciao Ma fai ciao con la zampina anche No Non cominciare ad andare sulle rose Lui Ciao Ho ste fiore Fiore Ho sti fiori finti Sul tavolo E lui se li mangia Cioè nel senso di Dito Peekaboo Adesso lo può fare sky Peekaboo Ecco Ogni volta che C'è la rosa Peekaboo Sky Bravo Sky è bravo È bravo Sky è bravo È bravo Sì Di Peekaboo Bravo Bravo Sky è bravo Sì Cosa ci cantavi oggi? Ah dobbiamo fare gli auguri di compleanno a chi compie gli anni oggi Peekaboo Dillo pure tu Peekaboo Eh lo diciamo un po' Un po' Cantiamo tanti auguri Peekaboo Tanti auguri Tanti auguri A sky Non a sky A te Saluti con la zampina Saluti con la zampina Eh questa zampina Tanti auguri Tanti auguri Tanti auguri A chi? Tanti auguri A sky Ma se per gli anni fai Non è il tuo compleanno oggi Tanti auguri Bravo 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 sky Bravo 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 sky È bravo È bravo Me lo dai un altro bacetto? Me lo dai bacetto? Peekaboo Me lo dai bacetto? Gra Non capisco perché dice gra Devi dire grazie Dai bacetto Gra Niente non ce la fa oggi Non ce la facciamo Che altra canzone ci canti oggi? Come fa la papera? Come fa la papera? Come fa la papera? Qua 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 Vieni qua Vieni qua sky Vieni qua sky Vieni qua sky Cosa vuoi? Cosa vuoi? Cosa vuoi? Eh non si dicono queste cose sky Non le devi dire No non le devi dire queste cose No cosa hai rotto non me lo dici Non me lo dici che cosa hai rotto E allora? Oddio mi è arrivato un messaggino Cosa dici? Ah vediamo un po' È arrivato un messaggino Dopo rispondo Vieni Non andare sulle rose Peekaboo Peekaboo Diciamo Peekaboo 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 Vedete che anche lui sposta la testa Peekaboo 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 Bravo Bravo Sky è bravo Bravo Facciamo Peekaboo 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 Bravo 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 Sky è bravo Cantiamo Waka Waka Dai Siamoci qua e cantiamo Waka Waka Vai Zaminamina E E Zaminamina E E Zaminamina E E Dai Dai Zaminamina E E Waka Waka E E Quando è il tuo compleanno Il mio è il 25 marzo Il suo è il 27 febbraio Zaminamina E E Troppi zaminamina Stai dicendo Zaminamina E E H Waka E Beh No Niente L'oggi è timidino Ma non mi devi I capelli no Ti ho detto i capelli no Non mi devi mangiare I capelli no Adesso dice I capelli I capelli I capelli no I capelli no Capito? No Monello Sei monello Sei monello Monello Io faccio gli anni il 26 marzo Sei una rietina come me Cosa fai? Cosa fai? Oh Non si dicono queste cose Sky Non si I capelli no 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 Abbiamo detto no Cos'è in fronte Sky? Dobbiamo dire a tutti che Devono andare Devono andare a vedere il video di oggi Perché Non riescono a capire perché C'è un moscerino Non riescono a capire perché ho queste cose in faccia Che non è niente di Scandaloso eh Cosa mi guardi così? Baccetto Mi dai bacetto? Mi dai bacetto? Mi dire grazie Niente Oggi fa il timidino Che pappagallo è? Lui è un parrocchetto monaco Della mutazione Snow White Grazie Mi devi ringraziare Devi far la cacca Sky Secondo me questo qua deve far la cacca Vediamo un po' Vieni qua Vai a far la cacca Non girare per casa Fai la cacca Fai la cacca Fai la cacca Cacca Devi far cacca Vediamo se la fa Picaboo Scusate non sto più guardando Devi far la cacca Sky Non si sa Da me piove un sacco Allora qua A Torino ancora no Cioè è un po' nuvoloso Però non piove Non so che situazione è Adesso inizia a fare anche freschetto Per fortuna Ci fai vedere la mini lavatrice? Ce lo direi in studio Tanto poi domani vi faccio uscire il video Ve le faccio vedere tutte quanti E ritornerà anche Pino Così vi faccio vedere anche Pino Sembra tuo figlio Ma lui E' come se fosse un figlio Vero Pipi? Vero Pipi? Picaboo Mi ha detto l'allevatrice all'epoca Quando l'avevo preso No in realtà forse non l'aveva detto l'allevatrice L'avevo forse letto su internet Non mi ricordo Che loro E' come se avessero sempre quattro anni Picaboo E' come se avessero sempre quattro anni Vero? Tu sei un bimbo Ma tu sei un bimbo Sei un bimbo monello Sei un bimbo monello Sei monello Sei monello 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 Sei monello No Sei monello Dove gli fa i suoi bisogni? Allora Li fa nella gabbia Quando sta in giro O Capisce lui ogni tanto Va sulla gabbia E quindi fa Dice cacca E fa la cacca Oppure capita Molto spesso Che sta in giro Magari sta spoggiato sulla sedia E la fa Per terra O addosso a me Quando magari siamo insieme Perché dici picaboo? Perché picaboo in inglese E' come se fosse bubusette E tra i pappagalli Cosa urli? E tra i pappagalli Picaboo Cioè si dice sempre questa cosa Cosa dici? Cosa dici? Ma cosa Ma cosa c'è? Dicevo Picaboo Tra i pappagalli Cioè è più facile dire picaboo Che bubusette Perché bubusette E' proprio una parola lunga Loro sono Diciamo più propensi Picaboo 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 Scusate me ne sono persi E E Io mi perdo coi discorsi E quindi è più semplice Dire picaboo Picaboo E invece poi Quando mi inviano le rose Le devo dire io Vero Pippi? No Non andare sulle rose Per favore Niente Ti sei già stupato? Basta Basta Quando addobbi la casa di Halloween Avete ragione Col cuore Non l'ho fatto Sempre col cuore Col cuore Quanti anni ha? Picaboo Sky Ne ha uno e mezzo Se li fa febbraio Più o meno Già l'abbiamo passato Col cuore L'anno e mezzo Vero Pippi Voto 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 fanpage No non ho capito Picaboo Non ho capito Che hai in faccia Il video di oggi Col cuore Picaboo Picaboo Video di oggi Sempre video di oggi Sono nata Allo stesso giorno di Sky Quindi sei un pesci Quindi sei un pesci Unboxing lavatrice Sì sì ma ve lo faccio Ve lo faccio uscire il video Sky per favore Stai facendo cadere tutto Bellissima la felpa Sì sì molto bella Solo che l'ho presa tipo Quattro anni fa Quindi Mi sa che non è più reperibile A meno che Tally Vile O Tally Whale Io non so come si pronunci Correttamente Penso Tally Vile Perché mi ricordo che Le ragazze che lavoravano All'interno del negozio Mi dicevano che si diceva Tally Vile E Cosa c'è Molto veri A meno che non lo rifacciano Però Difficile Adoro i tuoi capelli Grazie Però Non dureranno tanto i capelli rosa Picaboo Ve lo dico già Non penso che Li terrò tanto 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 tempo Lo fatti solo adesso Ehi Maledetto Picaboo Giocate a Picaboo Giochiamo a Picaboo 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 Tanti bacetti Col cuore Sempre col cuore Che ore sono? Che ore sono? Io direi che Sta iniziando a essere un po' tardino Vero Tato? Vero Tatino? Hai preso tutti i glitter? Ritornando all'argomento Picaboo glitter Dai Sky Per favore I glitter Adesso sono Vietati Nel senso La produzione di glitter Non è che sono vietati Adesso c'è che non si possono più mettere I glitter Non possono più essere messi in commercio Anche per una questione ambientale Adesso le aziende Cercheranno Stanno cercando Un metodo Per Magari fare Glitter biodegradabili Non vuol dire che Non avremo più glitter O non si possono più mettere Sempre col cuore Quello Sempre Ma che hai in faccia? Lo ripeto un'ultima volta Andate a vedere il video di oggi Così capirete il perché Sono così in faccia Picaboo Perché ti stavano da urlo? Ah che cosa? I capelli? Eh lo so Picaboo 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 Col cuore Bene ragazzi Io direi che Si è fatto un po' tardino Io devo andare a sbrigare un po' di cosine Anche perché poi più tardi devo uscire Picaboo Oggi mi dedico un po' alla mia famiglia Quindi non sarò tanto attiva Nelle storie di Instagram Adesso tra poco vi faccio vedere Il calendario dell'avvento di Sephora Che mi è arrivato Vi faccio vedere un po' così alla veloce Altre cosine che mi sono arrivate Quindi seguitemi anche su Arian Makeup Vi faccio vedere Arian.makeup Su IG Vi faccio vedere il profilo così Capite che è il mio This one Mi trovate così Sempre col cuore Sky non mangiare i fiori Grazie E sempre col cuore E noi ci vediamo Una prossima live Allora domani sono a Milano Quindi non so se riuscirò a fare una live Picaboo Però io vi ringrazio sempre Siete tanti 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 Vi voglio sempre un sacco di bene Mi raccomando Studiate Fate i compiti Mi è arrivato un altro regalo Picaboo Ci vediamo Ciao Ciao